salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti in questo video parliamo di aumento delle pensioni minime in quanto negli scorsi giorni è stato presentato il nuovo programma di fratelli d'italia che vuole l'innalzamento a 1000 euro vediamo insieme tutti i dettagli in questo breve video prima di visionare il video come sempre vi invito ad iscrivervi al canale a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale naturalmente è tutto gratuito dal 29 aprile al primo maggio si è tenuta nella città di milano la conferenza di fratelli d'italia programmatica dal titolo italia energia da liberare dove giorgia meloni ha presentato un documento intitolato appunti per un programma conservatore tra cui tra i vari temi è stato affrontato anche quello delle pensioni per fratelli d'italia è importantissimo alzare le pensioni minime a 1000 euro al mese perché per circa 6 milioni di italiani la pensione è sotto questa soglia il dato sarebbe corretto secondo gli ultimi dati istat infatti pubblicati nel 2021 tre anni fa in italia erano presenti oltre 16 milioni di pensionati di questi il 35 per cento percepiva una pensione inferiore a 1000 euro mensili nello stesso periodo le pensioni da 1000 euro erogate ogni mese erano 13,8 milioni oltre 60 per cento delle 22,8 milioni di pensioni totali il numero di pensioni effettivamente erogate superiore al numero di pensionati poiché in alcuni casi questi hanno diritto a più di una pensione magari di diverso tipo come quella di vecchiaia e invalidità nel 2019 invece 67,3 per cento dei pensionati percepiva una sola pensione il 24,7 per cento due e l'otto per cento tre o più pensioni voi cosa ne pensate di questa proposta riguardo l'innalzamento delle minime a 1000 euro fatecelo sapere qui sotto nei commenti del video bene e anche per oggi è tutto se non l'avete già fatto vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale grazie per l'attenzione al prossimo video e un saluto a tutti